E' subentrata qualche forma di contrarietà? No, 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 signor giudice. Cioè, sì. I signori non vogliono più divorziare? Sì, certo. Sì, sì. C'è qualche problema con gli alimenti, con la casa, con la ripartizione delle azioni? No, 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 niente di tutto questo, no. Non volete più l'affidamento congiunto? No, no, al contrario. Allora, se mi spiegate cosa succede? Ecco, noi ci stavamo chiedendo se, insomma, se le andasse di venire a cena da noi. E poi solito questo. Va bene. Bene. Perfetto. Intanto però voi mi dovreste portare l'atto notarile relativo all'acquisto della casa. E quando sarà libera? Per la cena. Beh, no, aspettiamo dopo che si è pronunciato il divorzio. No, no, prima. Veramente noi avremmo voluto riceverla prima? Prima? Questo fine settimana, per esempio, via, si potrebbe fare una grigliata in giardino e se mai dovesse piovere un roast beef col purè. Buono. Sì, buono. Buono, roast beef col purè, perfetta. Sì. E dopo cena la lasceremmo un attimo da sola con i ragazzi per parlicchiare. Voi mi volete dire che i ragazzi non sono stati informati del divorzio? Cioè loro ancora non lo sanno? Vede, Anna Maria, posso chiamarla Anna Maria? Anna Maria, io sono un medico ginecologo e quando devo dare una brutta notizia non mi è indietro, io mi faccio il carico io di dare la notizia. Mai la famiglia. È uno sguardo professionale sul fatto. Come dire, il distacco. Lo capisce, vero? No. Non proprio. Anna Maria, quale parte? Quale parte esattamente non ha capito?